Siamo con Emanuele Manzoni, Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Lecco. Una domanda d'obbligo è di imminente, anzi di grande attualità. 200 saranno i profughi che verranno a Lecco, verranno affidati al territorio lecchese dopo le recente nuove episodi dolorosi e tragici avvenuti nel Marionio. Lecco come si prepara a questa accoglienza. Prima di tutto penso che visto il periodo che stiamo vivendo e i recenti episodi, mi riferisco purtroppo alla tragedia di Steccato di Cutro, penso che sia necessario da parte di tutti, ma soprattutto da parte di chi ha ruoli istituzionali e rappresenta le comunità, fermarsi a riflettere. Perché quello che è avvenuto a Steccato di Cutro, quello che è avvenuto anche a Lampedusa e a tutti gli episodi che ormai non riusciamo più nemmeno a contare, ci interrogano come fa un paese come l'Italia, come fa l'Unione Europea a non essere ancora riuscita a costruire un meccanismo per cui per migrare, per spostarsi non si debba correre il rischio di perdere la vita. Persone, storie normali, storie che potremmo essere tutti noi, dalla giornalista palestinese ai bambini che fuggono da situazioni in cui non si può vivere. Quindi questa è un po' la prima riflessione che mi viene da fare. Poi sì, è chiaro che queste migrazioni, che hanno mille ragioni, poi interessano direttamente anche i nostri territori. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato la prefettura che ci ha informato che all'interno delle quote che devono essere ripartite sul territorio nazionale evidentemente c'è una parte che riguarda anche il territorio lecchese. Io penso che, come abbiamo ribadito più volte, l'accoglienza migliore sia quella diffusa. L'accoglienza del 3x1000, che si basa sul servizio di accoglienza e integrazione, l'Exprar, che coinvolge direttamente i comuni e che permette due cose principalmente. La prima è di garantire a queste persone un'accoglienza dignitosa, che prenda in carico la persona nel suo insieme e che permetta di accompagnarla in un processo di integrazione che sia efficace, che riguardi la dimensione del lavoro, che riguardi la dimensione abitativa, che riguardi l'apprendimento della lingua e della cultura e che riguardi anche però evidentemente la sfera psicologica. Perché questi sono viaggi che frustrano, sono viaggi che stressano e non è sempre semplice rilaborare quello che è avvenuto. Ma il secondo aspetto altrettanto importante è quello di fare in modo che il territorio sia pronto, preparato, che abbia la possibilità di mettere in campo quei meccanismi che vanno dalle associazioni e la grande disponibilità che hanno sempre dimostrato, gli istituti scolastici, il mondo del lavoro, che siano pronti ad accogliere e che questi arrivi non stressino troppo le nostre comunità ma che possano essere assorbiti e possano generare un arricchimento e non meccanismi di insicurezza. I recentissimi fatti di cronaca, poc'anzi menzionati, hanno messo un po' da parte, hanno messo largamente a lato sui fianchi laterali delle polemiche, il ventilato aumento della vecchiaia all'età di 75 anni. Gli anziani sono troppo, sono troppo numerosi, alziamo il livello di approdo all'età veneranda, 75 anni. Qual è il parere dell'assessore? È chiaro che non bastano degli stratagemmi che modificare le statistiche per cambiare quello che è il bisogno di servizi delle persone che abitano nelle nostre comunità. È vero che da tempo si parla di giovani anziani, di grandi anziani, quindi da tempo c'è una separazione rispetto alla fascia della terza età che non è più semplicemente il momento del bisogno, della cura, dell'accudimento, ma è anche, soprattutto per i neopensionati e per la fascia che va dai 65 ai 75, un momento in cui c'è una nuova vitalità, la possibilità di dedicarsi ai propri hobby, la possibilità di dedicarsi alla propria famiglia, la possibilità di dedicarsi al volontariato e di riscoprire nuovi interessi. Quindi sicuramente dobbiamo ripensare al mondo della terza età non pensando semplicemente che si tratti di persone cronicizzate che hanno bisogno di un accompagnamento sociale o sanitario. È altrettanto vero però che la curva demografica la conosciamo tutti, la città di Lecco vede 165 over 65 ogni 100 under 18, quindi la piramide demografica è chiarissima e questo ci deve impegnare, ci sta già impegnando a ripensare i nostri servizi, a garantire benessere in tutte le faceta. Non è semplicemente una questione anagrafica, è anche una questione culturale e sociale perché un tempo a ogni persona anziana corrispondevano due, tre, quattro figli, nipoti che potevano in qualche modo prendere in carico anche la persona anziana entra nel nucleo, oggi non è più così, oggi molto spesso è l'esatto opposto, una persona in età lavorativa deve o ha la responsabilità, diciamo così, su due, tre, quattro persone che sono cosiddette anziane. Dunque ci vuole un intervento, ci vuole una presenza della dimensione pubblica, non penso semplicemente al comune e allo Stato, ma alla dimensione pubblica in generale, chiunque lavora nell'interesse pubblico per creare le condizioni per accompagnare le persone anziane. Faccio un esempio per farmi capire. Recentemente in Via Alturati abbiamo rinaugurato uno spazio di accoglienza e salute, l'abbiamo chiamato così, in collaborazione tra comune, i volontari della San Vincenzo, la parrocchia e con un dialogo forte con i medici di medicina generale. Cosa si potrà fare in questo luogo? Misurare i parametri vitali, fare una chiacchierata, far presente alcuni bisogni e alcune necessità, una presenza fondamentale nel territorio cittadino da parte del comune, ma non solo, delle associazioni che ho menzionato, che permette di garantire alle persone anziane di avere un punto di riferimento e di scommettere su una vita il più possibile al domicilio. Ecco, certo che siamo di fronte a un prolungamento eccezionale della vita. Tanti anni fa, quando ho iniziato a essere un giornalissimo cronista, l'avvenimento di un centenario portava a correre nella zona, nel paese, nella città di residenza del centenario. Oggi ce ne sono tre al giorno di centenari. Questo è un dato positivo, però crea dei problemi. I servizi sociali, se c'è un settore che si è potenziato, si è allargato, si è moltiplicato nell'attività comunale in questi ultimi anni, sono i servizi sociali. Io ricordo gli anni che ho fatto in Comune di Lecco, come ha detto Stampa, c'era un settore ben definito che si è allargato, si è moltiplicato e sono lodevole le iniziative. Basta ricordare quella del giglio di Via Chisilanzoni a Pescarenico. E quindi come affrontiamo questa situazione? Di fronte a un allungamento di vita che porta generazioni nuove, ancora in gamba, quasi alla soglia del secolo di vita e anche oltre. E' chiaro che la curva demografica, come dicevamo, richiama a un impegno da parte della dimensione pubblica nel bilancio del Comune di Lecco anche quest'anno, all'interno, e lo voglio dire, di un contesto molto critico, perché noi tutti conosciamo il mondo che stiamo vivendo. Noi tutti sappiamo cos'è accaduto il 24 febbraio dello scorso anno, noi tutti sappiamo la curva inflattiva e l'impatto che ha avuto sulle economie familiari, banalmente, ma anche delle grandi strutture delle aziende e dunque anche del Comune di Lecco. All'interno di un contesto di questo tipo il Comune ha deciso comunque di investire, perché si tratta di questo quando si parla di servizi sociali, di investire e non di spendere. I costi legati al settore dei servizi sociali sono un grande investimento perché ci restituiscono una dimensione sociale comunitaria capace di fare tutto il resto, di godere di benessere, di mantenere le attività produttive, di costruire cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Quella è la premessa necessaria, non sufficiente, ma necessaria, cioè un benessere diffuso. Pensando a questo il Comune di Lecco ha deciso di mantenere gli investimenti sui servizi, che ad oggi mantenere i servizi vuol dire aumentare le economie che vengono investite su quel settore. L'abbiamo fatto consapevoli del fatto che Lecco è sempre stato un territorio con dei servizi di altissima qualità e questo ci ha portato ad essere un territorio dove la qualità di vita è una qualità di vita molto elevata. Noi vogliamo continuare a garantire questa qualità di vita. È chiaro che per quanto riguarda la fascia anziana entrano in gioco tutti gli aspetti che stavamo dicendo. Il Giglio è un centro di aggregazione importante, ma non solo. Il Giglio è una piattaforma, un attivatore anche e un connettore di altre. In realtà noi abbiamo una storicità di circoli parrocchiali, circoli arci, circoli cooperativi che lavorano in maniera egregia, che garantiscono un punto di riferimento, di aggregazione per le persone anziane. Penso anche ai servizi sociosanitari perché servono anche quelli, il lavoro egregio che fa i servizi integrati per la domiciliarità del Comune di Lecco per garantire una presenza e appunto, come dice il nome, garantire la possibilità del mantenimento al domicilio di una vita delle persone anziane. Sono tanti gli interventi, non ne basta uno, bisogna metterli in rete. Questo è un territorio molto ricco fortunatamente. Io penso che il Comune mantenendo, anzi aumentando gli investimenti sull'area dei servizi sociali, abbia dato un messaggio molto chiaro al territorio che noi non facciamo neanche un passo indietro su questo tema. Bene, grazie di queste dichiarazioni e buon lavoro. Grazie a lei, grazie a lei e a presto.